E' una settimana importante questa per la futura volley perché dopo la vittoria di Bisceglie arriva il big match domenica in casa contro Corridogna. Facciamo un passo indietro, intanto vittoria netta a Bisceglie, la squadra ha confermato tutta la sua crescita. Sì, la verdad è che è stata una partita, diciamo due set che abbiamo giocato benissimo, però ci siamo trovati con una buona squadra che ha lottato fino alla fine. Il terzo set abbiamo un po' calato con tanta difesa dell'altra squadra e dopo abbiamo vinto il quarto set. Sì, 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 domenica come hai detto abbiamo una buona partita perché è il primo e il secondo posto contro il Corridogna. Corridogna che proprio la settimana scorsa ha perso il primo posto con la sconfitta di Bari. Che squadra è? Allora, il Corridogna è una buona squadra completa che noi dobbiamo giocare anche al massimo come lo abbiamo fatto finora. Gli ingredienti appunto per battere il Corridogna perché ovviamente c'è l'opportunità di vincere e allungare proprio sulla squadra marchigiana. Certo sì, perché loro hanno perso come hai detto tu contro il Bari, sì che noi stiamo prima in questo momento e certo se vinciamo siamo più tranquille prima, però mancano ancora altre tre partite per finire il girone di andata diciamo. e dai, sempre ogni partita a sé diciamo, prepariamo per ogni partita senza sottovalutare nessuna squadra perché anche Vicelli aveva un punto come Corridogna e noi partiamo come siamo partite contro il Vicelli come se fosse una finale anche con Corridogna la stessa cosa.